Sabato 21 settembre 2013 a Palazzo Medici Riccardi nella splendida sala Luca Giordano si inaugura la mostra, le ruote girano, una mostra riservata dalla regione toscana e dalla provincia di Firenze al maestro Luca Linari che in occasione dei mondiali di ciclismo di Firenze di quest'anno ha realizzato il logo mondiale e proprio questo logo è l'icona intorno alla quale gira questa mostra con opere recenti del maestro Linari che vedete a mio fianco all'altro mio lato. Accanto a me l'assessore allo sport della provincia di Firenze Monica Spacchini che poco fa con tanto di nastro ha ufficialmente inaugurato questo evento che non riguarda solo la mostra di Luca Linari perché all'interno del palazzo ci sono altre mostre delle quali ci parlerà lo stesso assessore. Sì stamani è stata una bella mattinata abbiamo dato il via a tre mostre dedicate ai mondiali naturalmente questa è una di quelle di punta come si dice il maestro Linari ci ha appreggiato della sua capacità del suo estro artistico per confezionare il logo ufficiale di Toscana 2013 intorno al quale ruota ovviamente questa mostra. Al piano di sotto abbiamo inaugurato una mostra dedicata a Pinocchio che è naturalmente la mascotte dei mondiali come certamente tutti sapranno è una bellissima mostra dedicata agli azzurri di Alfredo. Alfredo Martini stamani era con noi è stato un grande onore averlo qui stamattina davvero e sicuramente quella mostra racconta un pezzo di storia del ciclismo ma anche un pezzo della Toscana perché buona parte della storia del ciclismo dei campioni del ciclismo italiano sono qui sono toscani sono patrimonio vivo culturale sportivo di questa nostra regione io vorrei che prima di passare il microfono al maestro tu ricordassi ai telespedatori che in questi giorni il palazzo Medici Riccardi è la location espositiva più importante credo non solo della città ma dell'intera penisola perché oltre alle mosse che hai citato sono in corso ancora alcune mosse importanti nella limonaia quella di Adriano Corsi nelle sale medice quella di Giulio Galgani quindi un invito da parte tua ai telespedatori a venire a visitare fino al prossimo 29 settembre questa miriade di mostre fra le quali ovviamente fa spicco quella di Luca Linari che è un maestro internazionalmente riconosciuto. Sì non c'è dubbio in questa settimana mondiale ormai la chiamiamo tutti così Palazzo Medici Riccardi apre le porte a quella che è non solo lo sport di questa nostra regione di questo grande appuntamento ma anche a quello che è l'arte e la cultura invitando tutti coloro che passeranno da Firenze appunto per vedere un ciclista passare sulle nostre strade anche a recarsi in questo straordinario palazzo e farsi un pieno di cultura come si dice abbiamo l'abbiamo pensato apposta abbiamo reso questo palazzo il luogo della cultura e dello sport. Grazie Assessore Luca e qualcuno tra tanti presenti che ci sono stamani a Palazzo Medici Riccardi ha definito questa mostra una mostra mondiale per il mondiale. Ma cosa vuoi che sia mondiale o non mondiale? c'è solo una cosa l'anima l'anima della bellezza e il ciclismo mettiti in bicicletta in discesa stai correndo il vento tutto corre attorno cosa c'è di più bello? Ha ispirato i futuristi ha ispirato tanta pittura tanta arte quindi il ciclismo è bellezza e io dovevo lavorare sulla bellezza e sovrapporre la bellezza alla bellezza e unirle e far nascere una nuova bellezza. Beh non è la storia della vita? Grazie E all'insegna della bellezza anche questa mostra perché essere ospitata nella sala più prestigiosa del palazzo che appartene alla famiglia Medici cioè la sala Luca Giordano lo vedete dall'immagine una sala splendida con degli affreschi al soffitto altrettanto splendidi quanto lo sono le pareti non poteva essere cornice migliore per un'esaltazione della bellezza. In più tu hai voluto aggiungere la presenza di una danzatrice di danza classica che piroettando ha ricordato un po' l'eleganza di chi in bici ha compiuto delle geste eroiche stamani c'è una mostra di fotografie che ci ricorda quelle di Coppi, di Bartoli la grande eleganza anche nella suprema sofferenza di questi grandi campioni. Avevo intenzione di mettere la ballerina in tutù in bicicletta che correva per la stanza ma poi era troppo divertente e allora si limita semplicemente a ondulare il proprio corpo senza musica perché questa è una mostra di pittura cioè una mostra che si riferisce alla retina dell'occhio e non all'orecchio e che in qualche modo regge i fili delle presenze artistiche, bici, quadri, persone stesse di questa stanza che questa mostra in fondo è una stanza visitata per una particolare folle occasione. Un bel giorno dopo tanti secoli, dopo un paio di secoli che questa stanza è stata fatta gli uomini si sono messi a fare le corse in bicicletta. Beh, diciamolo e facciamolo al meglio che possiamo. Siamo degni dei nostri avi. Grazie a Luca Linari, vi ricordo che la mostra Le ruote girano del maestro Linari dedicata al logo mondiale realizzato allo stesso maestro per l'evento eccezionale dei mondiali 2013 sarà aperta al pubblico dal 21 al 29 settembre nella sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi in distribuzione gratuita per quanti verranno nei prossimi giorni l'elegante catalogo realizzato da Masso delle Fate Edizioni e il numero di settembre del mensile La Toscana con un ampio servizio dedicato alla personalità del maestro Linari con un articolo della critica Elena Pontigia e un testo dello stesso maestro nel quale descrive la genesi del logo mondiale e il nome del quale oggi ci troviamo qui al Palazzo Medici Riccardi. Grazie a tutti